Nuovo appuntamento con l'informazione di oggi a nord est. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato nella notte la manovra finanziaria per il 2021. Le tre leggi di bilancio sono state votate in modo compatto dalla coalizione di centrodestra, contrarie invece le forze di opposizione. L'impegno finanziario complessivo è di 4,6 miliardi di euro e circa il 60% delle risorse sarà destinato alla sanità, 2,78 miliardi, la gran parte dei quali 2,4 per la spesa corrente in piena emergenza Covid. Tra le altre proposte di bilancio, 398 milioni di euro sono destinate a infrastrutture e trasporti, 115,6 milioni alle attività produttive, la metà dei quali riservata al turismo, 106 milioni all'ambiente. Un emendamento presentato dalla giunta inoltre riservato 354 milioni nel prossimo triennio ad investimenti. Un vertice tra i ministri degli esseri in Italia, Croazia e Slovenia in programma domani mattina a Trieste, tra i temi al centro del tavolo di lavoro, le zone economiche esclusive Zee dell'Adriatico. L'incontro tra il titolare della Farnesina Luigi Di Maio, il suo omologo croato Gordon Gerlich Radman e il ministro sloveno Anze Logar si terrà nella sede della prefettura in piazza dell'Unità d'Italia verso le 11. In occasione di una recente visita a Zagabria, Di Maio aveva affermato che l'Italia sta predisponendo la normativa per proclamare la zona economica esclusiva in Adriatico. Un passo aveva sottolineato che stanno facendo anche gli amici croati con l'obiettivo di assicurare la massima tutela possibile del mare Adriatico. In attesa delle decisioni del governo sulla stretta per il Natale, il governatore veneto Luca Zaia annuncia la firma di una nuova ordinanza che limita gli spostamenti tra i comuni ogni giorno dopo le 14 da sabato 19 dicembre al 6 gennaio, una sorta di mini lockdown. Zaia incassa l'ok del lanci regionale, il tutto mentre i dati sulla pandemia sono in crescita e proprio su questi il PD locale nazionale si scaglia contro il governatore per una presunta mala gestione dei numeri sui positivi e le terapie intensive senza trascurare il sistema ospedaliero regionale. È stato chiuso poco prima delle 10 di oggi il tratto autostradale della 4 tra il nodo di Porto Gruaro e la Tisana in direzione Trieste a causa di un incendio a un veicolo. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete, i mezzi del soccorso meccanico Autovie Venete ha disposto la chiusura del bivio A4-A28 per chi diretto verso Trieste ha istituito l'uscita obbligatoria a Porto Gruaro. Ieri mattina la Polizia di Stato ha denunciato per percorse resistenza e pubblico ufficiale per rifiuto di fornire le proprie generalità un cittadino rumeno del 1992 a Trieste. Già noto alle forze dell'ordine, l'uomo privo di mascherina ha chiesto le lemosina ai passanti in piazza Garibaldi e a loro di niego li ha colpiti con calci e schiaffi, comportamento che ha già avuto nei giorni scorsi sempre nella stessa piazza. Sono giunte alcune telefonate alla sala operativa della questura tramite il 112 e sul posto è stato inviato prontamente personale della squadra volante. Alla vista degli operatori il cittadino comunitario ha assunto un comportamento aggressivo e si è rifiutato più volte di fornire le proprie generalità e di indossare il sistema di protezione individuale, in osservanza che è stata successivamente sanzionata amministrativamente, per nulla collaborativo, ha opposto resistenza ed è stato accompagnato negli uffici di polizia. Dopo le formalità di rito il giovane è stato deferito alla locale procura della Repubblica. Atti persecutori e lesioni gravi nei confronti della ex moglie sono i reati per cui è stato arrestato un 41enne catturato nella serata di ieri dai carabinieri del nucleo operativo di Vezia. I militari l'hanno fermato al termine di una latitanza durata diverse settimane. L'uomo tunisino pregiudicato era destinatario di un provvedimento del Tribunale che lo aveva riconosciuto colpevole degli atti di violenza ai danni della ex residente al Lido di Venezia. Consapevole dell'ordinanza pendente nelle ultime settimane, il 41enne si era nascosto tra le calli di Venezia, trovando ospitalità da qualche connazionale, accampando di volta in volta varie scuse per non destare i sospetti. I carabinieri hanno effettuato degli appostamenti e pedinamenti fino a rintracciarlo. L'uomo è stato portato in carcere. Terribile incidente nella serata di ieri a Cendon di Silea in via Molino. Una donna di 30 anni è precipitata dal terrazzino della sua abitazione un appartamento a secondo piano di un condominio ed è rimasta infilzata sulla recinzione esterna. In base a quanto ne ho ricostruito i carabinieri di Silea intervenuti per accertare la dinamica dell'episodio, la trentenne stava fumando una sigaretta nel terrazzino della sua abitazione ma inavvertitamente è rimasta chiusa fuori senza poter rincasare la porta finestra lasciata inizialmente socchiusa, si è invece chiusa senza possibilità di aprirla dall'esterno. La donna ha così deciso di chiedere aiuto al vicino di casa e si è arrampicata cercando di raggiungere il terrazzino di quest'ultimo e per poter così ritornare in casa il tentativo ha rischiato di trasformarsi nella più assurda delle tragedie. La trentenne è precipitata nel vuoto da un'altezza di circa 4 metri precipitando sopra una recinzione che l'ha infilzata all'altezza di una gamba causando lesioni importanti ad un femore, a un gluteo. A soccorrere la trentenne è rimasta sempre cosciente nonostante lo shock sono giunti i vigili del fuoco di Treviso oltre a medico-infermieri della SUEM 118 che hanno accompagnato la giovane al pronto soccorso dell'ospedale Caffoncello. Fortunatamente le condizioni della trentenne non sono gravi, la prognosi resta per ora comunque riservata e sarà sciolta nelle prossime ore. SPOT BREAK Sul Friuli Venezia Giulia cielo in genere sereno, poco nuvoloso, salvo possibile maggiore nuvolosità sulla costa orientale e sul Carso. La giornata di domani sabato cielo da variabile a nuvoloso, possibili foschie notturne in pianura. Passiamo al Veneto, cielo sulle zone centro-settentrionali sereno o poco nuvoloso, su quelle centro-meridionali parzialmente nuvoloso per stratificazioni e parziali riduzioni della visibilità. Domani sulle zone montane e pedemontane cielo sereno, cielo sereno poco nuvoloso. In pianura iniziali foschie e nebbie diffuse in diradamento durante le ore centrali. Lasceranno spazio cielo sereno poco nuvoloso sui settori settentrionali, sulla pianura centro-meridionale, probabili nebbie, solo in parziale diradamento localmente persistenti anche durante il giorno. Temperature in pianura senza notevoli variazioni, in calo sulle zone montane. Previsioni a cura di ARPA FWG Meteo e di ARPA, l'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Per il momento dal nord-est è tutto, appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti! Grazie a tutti!